Crona Koblenz presenta il controtelaio per porte scorrevoli con ABS di serie. ABS è il sistema di rallentamento integrato nel controtelaio che garantisce l'apertura e la chiusura della porta in modo dolce e sicuro. Chiudendo la porta non c'è più il pericolo di sbatterla. Con ABS la porta rallenterà la sua corsa chiudendosi con dolcezza. Il controtelaio per porte scorrevoli con ABS di serie è solo di Crona Koblenz.